Si ritrae Sandro L'errore di Zardegli Olivi in allineamento partiti in questo istante Dall'esterno provano top dei model con Willer all'interno più all'esterno Raissa Sere lì sotto Volton Jet Raissa Sere che fa allungare Willer per cercare di prenderne la schiena Volton Jet vorrebbe impedirglielo operazione che riesce a Giuseppe Trinchillo e così Willer al comando nei confronti di Volton Jet e Raissa Sere che scende prova a scendere terza davanti di Veleno Stecca ma questo non glielo permette 26 e 9 per i primi 400 metri di gara e così Willer al comando nei confronti di Volton Jet poi il numero 9 Veleno Stecca dalle retrovie si muove Talete e Deymar che cerca di fare un po' contropiede all'esterno è rimasta a suo malgrado proprio Raissa Sere quando i cavalli dopo 42 e 6 per i primi 600 metri sono davanti le tribune sposta a Veleno Stecca che anticipa la risalita di Talete e Deymar gli 800 passati in questo momento in 58 e 7 Willer volto in jet Veleno Stecca in costruzione in terza ruota Talete e Deymar lì sotto c'è anche Raissa Sere Talete allarga quando siamo al chilometro passato dal battistrada in 1'13'9 Veleno Stecca va in pressione lunga su Willer che però reagisce agevolmente di sotto c'è Volton Jet che ha bisogno dello spazio Raissa Sere è scesa terza all'esterno prova a recuperare Sandro Willer che mette assieme un 14-4 che serve per il momento a tenere a bada Veleno Stecca che però persevera Volton Jet che potrà aspettare l'open stretch generosissima Raissa Sere è ancora lì poi il 4 di top dei modi che prova a venire quando siamo all'ingresso e retta d'arrivo Willer che controlla la situazione Volton Jet che adesso avrà l'open stretch Willer che si difende Volton Jet che ci prova Willer e Volton Jet sin sul traguardo Willer che si salva da Volton Jet poi per il terzo posto un'ottima Raissa Sere la vittoria nettissima per Willer nettissima per come è venuta mentre per il secondo posto Volton Jet che va in ottima posizione ma non riesce a prendere Willer in dirittura d'arrivo mentre per il terzo Raissa Sere che pur scontro schema va a concludere ancora davanti a Veleno Stecca che costruisce 1.13.629.3 a chiudere Willer Giuseppe De Filippis è tutto per la premiazione del Memorial Luca Baleani abbiamo tutto il gruppo degli amici schierato abbiamo Giuseppe De Filippis che ha vinto molto bene con Willer complimenti Giuseppe una bellissima corsa ti avevano avevano scommesso tutti su di te tranne Salvatore te lo dico quindi a onore del vero devo ammettere questa cosa allora andiamo con la consegna dei premi consegniamo il premio al vincitore innanzitutto la medaglia e poi abbiamo la consegna di una targa che va al vincitore della corsa e siccome tu ti fai portavoce anche del proprietario che ricordiamolo è proprietario del cavallo glielo farai glielo farai recapitare e poi infatti consegniamo tu consegnerai al proprietario anche l'altra benissimo quindi complimenti una corsa che ti è venuta alla grande tu in serata sarai impegnato anche con altri giusto? altre due credo di Vastano stavolta solo come catch ti ha anticipato quello che dovrai fare? guarda ancora no i numeri sono un po' bruttini vediamo di prendere il massimo dai tu alla fine ti trovi sei sempre moderato nelle sporti nei commenti poi ti troviamo in pista guerritissimo e spesso ti trovo qui fortunatamente ad intervistare mentre abbiamo anche un omaggio per Salvatore Matti per il fatto che l'ippodromo San Paolo ormai da tre anni ospita questo memorial a Luca Baleani e quindi facciamolo consegnare anche questa targa ricordo a Salvatore io vorrei ringraziare ancora una volta tutti quanti voi perché siete veramente un gruppo che dimostra il bene che voleva a questo ragazzo e ancora una volta vorrei coinvolgere Gino in una battuta e poi Gino mi fai anche il pronostico di questa corsa vorrei ringraziare a tutti quelli che hanno partecipato e sperando che l'anno prossimo ci siamo ancora qua grazie a tutti